Volto gioiello, un concorso ideato e realizzato da Gioielleria Pasa, un'azienda sempre più conosciuta a livello nazionale per tenacia, competenza e fantasia. Le aspettative sono innanzitutto molto alte, perché intanto il tempo è stato cordiale, ci ha lasciato fare questa finale, finalissima direi, in una serata dove verrà premiata la vincitrice di Volto gioiello 2017. Stiamo aspettando gli ospiti adesso, stiamo aspettando la presentatrice che presenterà tutta la serata, gli sponsor con cui abbiamo collaborato, Dolomia Makeup, Fope Gioielli, So 23, con altre anche collaborazioni, sia di fotografi, sia di impianti luci, che ringrazio anche qui. E niente, decreteremo la finalista e non vedo l'ora appunto che si possa poi fare tutti insieme una bella serata. Voluto dal designer Andrea Grigoletto, il concorso ha scelto per il 2017 Sabrina Scargiotto. Una serata di gala a Villa Carpaneda di Belluno ha fatto da cornice alla passerella delle dieci finaliste. Eleganza, charm e classe sono la base della filosofia di gioielleria Pasa, che la diciannovenne di Busche rappresenterà per le future pubblicità 2018-2019. Che emozione è stata essere la finalista? Beh, sicuramente molto bella, molto forte, non me l'aspettavo, quindi sono davvero contenta. Gli ambiti premi in palio per questa edizione, un gioiello del brand Fope e un book fotografico con Andrea Gottardi, fotografo e ritrattista trevigiano. Tanta emozione da parte delle protagoniste, ma anche del pubblico presente. Grazie a tutti.